Con questo tutorial parliamo dei problemi geometrici risolubili con le equazioni di secondo grado. Partiamo da questo esempio. È dato un triangolo equilatero a BC di lato 10 cm. Per un punto S del lato AC traccia la parallela ST al lato CB. Determina la misura di ST in modo che l'area del trapezio STBC sia pari a tre quarti dell'area del triangolo dato. Abbiamo un triangolo equilatero di lato 10. Su questo lato AC devo prendere un punto S e tracciare la parallela al lato BC. In questa maniera resta definito un trapezio STBC. Lo scopo è determinare S in modo tale che l'area di questo trapezio sia i tre quarti dell'area del triangolo iniziale. Allora la prima cosa che vado a fare è calcolare l'area del triangolo ABC, sapendo che è un triangolo equilatero anche AB varrà 10. Essendo CH, e quindi questo lo indico con H, l'altezza relativa al lato AB, AH varrà 5 e quindi vado a determinare CH utilizzando l'inverso del teorema di Pitagora, 10 al quadrato meno 5 al quadrato, tutto quanto sotto radice, ed ottengo che CH è pari a 5 radice di 3. A questo punto vado a calcolare l'area e quindi l'area è un mezzo per la base, che è 10, per l'altezza 5 radice di 3 ed ottengo 25 radice di 3. Per calcolare l'area di questo trapezio vado a calcolare l'area dell'intero triangolo meno l'area di questo triangolino. Allora, indico con X il lato AS, di conseguenza anche AT sarà X perché sarà un triangolo equilatero. Traccio l'altezza relativa ad S e quindi questo punto lo chiamo H' e AH' sarà pari a X mezzi. Vado a calcolare l'altezza SH' utilizzando sempre l'inverso del teorema di Pitagora ed ottengo la radice quadrata di AS al quadrato, cioè X quadro, meno AH' al quadrato, cioè X mezzi al quadrato e quindi vado a scrivere X alla seconda fratto 4 ed ottengo radice di 3 fratto 2X. Vado a calcolare quindi l'area di questo triangolino e la chiamo A' che sarà pari a un mezzo per la base, tutto quanto è X, per l'altezza, questa quantità che è pari a radice di 3 su 2X ed ottengo radice di 3 fratto 4X quadro. A questo punto l'area di questo trapezio è pari a l'area del triangolo meno l'area di questo triangolino e quindi vado a scrivere che l'area del trapezio è pari a 25 radice di 3, cioè l'area del triangolo grande, meno l'area del triangolo piccolo, cioè meno radice di 3 fratto 4X quadro. L'area di questo trapezio deve essere pari ai tre quarti dell'area del triangolo dato e quindi vado a scrivere uguale ai tre quarti dell'area del triangolo, ma l'area del triangolo è sempre 25 radice di 3. Risolvendo questa equazione otteniamo due soluzioni, meno 5 e 5, quella negativa non la consideriamo e quindi X deve essere lungo 5 cm. Con X avevamo indicato AS e quindi la distanza di S dal punto A deve essere pari 5 cm affinché l'area di questo trapezio sia i tre quarti dell'area del triangolo iniziale. La base di un triangolo isoscelo è 6 cm e la misura della di congruenti è 12 cm. Calcola la misura del raggio della circonferenza circoscritta al triangolo. Allora abbiamo un triangolo isoscele la cui base misura 6 cm e i lati obliqui misurano 12 cm. Lo scopo è andare a determinare il raggio della circonferenza circoscritta a questo triangolo. Indico con X la lunghezza del raggio della circonferenza circoscritta e quindi AO sarà pari a X ma anche OC sarà pari a X. Adesso faccio alcune osservazioni sul triangolo ABC. Allora AD sarà pari a 3 cm in quanto AD è la metà della base AB. Ora voglio calcolare l'altezza CD. Per calcolare l'altezza CD basta fare il teorema di Pitagora, quindi 12 al quadrato meno 3 al quadrato tutto quanto sotto radice e quindi CD sarà pari a 3 radice di 15. A questo punto so che CD è pari a 3 radice di 15, CO è pari a X e quindi OD sarà pari a 3 radice di 15 meno X. A questo punto fisso l'attenzione sul triangolo AOD. Questo triangolo è un triangolo rettangolo e quindi vale il teorema di Pitagora e quindi posso andare a scrivere AD al quadrato più DO al quadrato deve essere uguale a AO al quadrato e quindi vado a scrivere 3 al quadrato più 3 radice di 15 meno X al quadrato deve essere pari a X quadro. Quindi cateto quadro più cateto quadro uguale ipotenusa al quadrato. Ottengo in questa maniera un'equazione di secondo grado che risolta mi dà come soluzione accettabile X uguale a 8 radice di 15 fratto 5 e quindi 8 radice di 15 fratto 5 è il raggio della circonferenza circoscritta. Dato il triangolo ABC di altezza CH uguale a 9A determina quale distanza dal vertice C deve essere condotta una retta parallela alla base AB in modo che il triangolo venga diviso in due parti equivalenti. Allora abbiamo questo triangolo ABC la cui altezza CH è pari a 9A. Ho tracciato una retta parallela alla base AB e devo trovare a quale distanza questa retta deve trovarsi dal punto C in modo tale che quest'area e quest'area siano uguali tra di loro, ossia quest'area e quest'area siano tra di loro equivalenti. Allora indico con X CH' cioè la distanza della retta dal vertice C. Vado a calcolare in maniera formale l'area del triangolo grande. Allora l'area del triangolo grande che indico con T sarà pari a un mezzo per la base AB per l'altezza CH dove so che CH è pari a 9A e quindi scrivo per 9A. Osservo che il triangolo piccolo CEF è un triangolo simile al triangolo grande. Allora posso impostare un rapporto di similitudine e dire base piccola sta a base grande come altezza piccola che ho indicato con X sta ad altezza grande. E allora vado a scrivere base piccola. E F sta a base grande cioè AB come altezza piccola cioè questa qui X sta ad altezza grande cioè CH e quindi vado a scrivere 9A. Da questo deduco che EF è pari a X per AB tutto quanto diviso 9A. In questa maniera riesco a calcolare in maniera formale l'area del triangolo piccolo che indico con T'. Quindi T' so che è un mezzo base cioè EF per altezza X. Ora siccome che EF è pari a questa quantità allora vado a sostituire al posto di EF X per AB diviso 9A per X. E quindi vado a riscrivere un diciottesimo AB X quadro. Ora siccome che questa parte e questa parte sono equivalenti vuol dire che questa parte è la metà dell'intero triangolo grande. Allora vuol dire che l'area del triangolo piccolo moltiplicata per 2 deve essere proprio uguale all'area del triangolo grande. E allora vado a scrivere 2 volte T' cioè 2 volte questa quantità e quindi scrivo 2 per 1 fratto 18A AB X quadro deve essere proprio l'area del triangolo grande ossia un mezzo AB per 9A. A questo punto posso andare a semplificare AB e AB ed ottengo un'equazione di secondo grado in X quadro che risolta mi dà come soluzione X uguale a 9 radice di 2 fratto su 2A. Questo significa che la distanza di questa retta dal vertice C deve essere pari a 9 radice di 2 su 2A. Il rapporto tra le due diagonali di un rombo è 3 quarti. Calcola il perimetro del rombo sapendo che la sua area misura 864 a quadro. Trova inoltre la misura della distanza tra due lati opposti del rombo. Sapendo che il rapporto delle diagonali è pari a 3 quarti indicando con X la diagonale maggiore la diagonale minore sarà pari a 3 quarti X. Conoscendo l'area del rombo che è pari a 864 a quadro posso andare a scrivere un mezzo per diagonale maggiore X per diagonale minore 3 quarti X uguale a 864 a quadro. Risolvendo queste equazioni di secondo grado in X ottengo che X è pari a 48a e quindi significa che la diagonale maggiore sarà pari a 48a e la diagonale minore che è pari ai 3 quarti della maggiore sarà pari a 36a. Conoscendo ora le due diagonali per calcolare il perimetro risulta abbastanza semplice perché andando a fare la diagonale maggiore diviso 2 ottengo la semidiagonale e quindi è pari a 24a mentre la semidiagonale minore è pari a 18a. A questo punto applicando il teorema di Pitagora quindi andando a fare questo al quadrato più questo al quadrato sotto radice otteniamo il lato ab e quindi vado a scrivere che ab è pari alla radice quadrata di 18a al quadrato più 24a al quadrato ed ottengo che ab è pari a 30a. Una volta che conosciamo il lato del rombo che è pari a 30a per calcolare il perimetro basta fare 30a per 4 e quindi il perimetro di questo rombo sarà pari a 120a. Ora il problema mi chiede anche di andare a determinare la misura della distanza tra due lati opposti del rombo. Supponiamo di considerare ab e cd come lati opposti la distanza tra questi due lati è pari a be. Osservo che questo rombo può essere interpretato anche come un parallelogramma la cui base è cd e l'altezza è be. Quindi se vado a fare base per altezza ottengo comunque l'area di questa figura che è pari a 864 a quadro. Quindi posso fare la formula inversa per andare a determinare be. Quindi posso scrivere che be è pari all'area 864 a quadro diviso la base ma questa lunghezza è pari proprio a 30a e quindi vado a scrivere diviso 30a ed ottengo 144 quinti a. Questo significa che la distanza tra due lati opposti è pari a 144 quinti a. In un triangolo ABC lato AB è congruente alla mediana AM relativa al lato BC e misura 4 cm. determina la misura del lato BC in modo che il quadrato costruito su di esso sia equivalente a 4 volte il quadrato costruito sull'altezza adesso relativa. Allora abbiamo un triangolo ABC e lo scopo è andare a determinare la misura del lato BC in modo che BC al quadrato, ossia il quadrato costruito su BC, è equivalente a 4 volte il quadrato costruito sull'altezza adesso relativa dove AH è l'altezza relativa ABC e quindi scrivo 4 per AH al quadrato. Ora osservo che il triangolo ABM è un triangolo isoscele perché AB ed AM sono congruenti e sappiamo che valgono 4 cm e quindi vado a scrivere che questo vale 4 e questo vale 4. Di conseguenza AH che è l'altezza di questo triangolo isoscele è anche mediana della base BM. Questo significa che HB è congruente ad MH. Indicando con X HB allora anche MH sarà pari ad X. Sappiamo che AM è la mediana del lato BC quindi se MB vale 2X anche CM barrà 2X. Allora BC sarà pari a 4X e quindi BC al quadrato sarà pari a 16X quadro. Ora dobbiamo andare a determinare una relazione per AH. Osservo che il triangolo AMH è un triangolo rettangolo e possiamo applicare l'inverso del teorema di Pitagora e quindi posso andare a scrivere che AH al quadrato è pari a ipotenusa al quadrato cioè 4 al quadrato e quindi vado a scrivere 16 meno cateto quadro cioè questa quantità al quadrato meno X quadro. A questo punto ho determinato sia BC quadro che AH quadro e vado a sostituire la scrittura in X in questa relazione e quindi vado a scrivere BC quadro ossia 16X quadro deve essere uguale a 4 per AH quadro cioè questa quantità quindi 4 che moltiplica 16 meno X quadro. Risolvendo questa equazione ottengo che X è pari a 4 radice di 5 fratto 5. Ora siccome che sappiamo che BC è pari a 4X conoscendo ora X possiamo scrivere che BC è pari a 16 radice di 5 fratto 5 cm. I lati BC e AB di un rettangolo ABCD misurano 12 cm e 25 cm rispettivamente. Determina dove deve essere preso un punto E su AB in modo che il triangolo CDE sia rettangolo in E. Allora sappiamo che questo lato misura 12 cm e lo indico in figura mentre l'altro lato AB misura 25 cm. Su AB devo prendere un punto E in modo tale che questo triangolo risulti rettangolo in E. Ricordo che affinché un triangolo sia un triangolo rettangolo deve valere il teorema di Pitagora. In poche parole se in un triangolo vale il teorema di Pitagora questo triangolo necessariamente deve essere un triangolo rettangolo. Allora indico con X il segmento AE. Di conseguenza EB sarà pari a tutto meno X e quindi vado a scrivere 25 meno X. Ora fisso l'attenzione sul triangolo ECB. Posso applicare il teorema di Pitagora per andare a calcolare EC e quindi vado a scrivere che EC è pari a cateto al quadrato 25 meno X al quadrato più cateto quadro 12 al quadrato sotto radice. Faccio la stessa cosa per DE sapendo che questo lato è pari a X mentre quest'altro lato sarà pari a 12 e quindi vado a scrivere che DE sarà pari a radice quadrata di X al quadrato più 12 al quadrato. Adesso fisso l'attenzione sul triangolo CDE. Voglio che questo triangolo sia un triangolo rettangolo e quindi impongo che valga il teorema di Pitagora, cioè cateto al quadrato più cateto al quadrato, deve essere uguale a ipotenusa al quadrato e quindi vado a scrivere DE al quadrato, cioè questa quantità al quadrato e allora scrivo X alla seconda più 12 alla seconda più EC al quadrato, cioè questa quantità al quadrato e allora vado a scrivere 25 meno X al quadrato più 12 al quadrato, deve essere uguale a ipotenusa al quadrato, cioè DC al quadrato, che è pari a 25 alla seconda. Risolvendo questa equazione di secondo grado ottengo che X può valere 9 centimetri oppure X può valere 16 centimetri. Entrambe le soluzioni sono accettabili perché sono maggiori di 0 e comunque minori di 25. ABC è un triangolo rettangolo in C il cui cateto BC misura 3 centimetri, mentre la proiezione del cateto AC sull'ipotenusa misura radice di 2 su 4 centimetri. Determina la misura dell'ipotenusa del triangolo. Allora sappiamo che il triangolo ABC, che è il rettangolo in C, ha cateto BC lungo 3 centimetri e lo indico in figura, mentre la proiezione di AC sull'ipotenusa AB, ossia AH, misura radice di 2 su 4 centimetri e lo indico in figura. Lo scopo è determinare AB, ossia l'ipotenusa di questo triangolo. Indico con X HB. Allora, per risolvere questo problema dobbiamo applicare il primo teorema di Euclide e possiamo andare a scrivere che BC al quadrato è uguale ad AB per HB. BC al quadrato è pari a 3 al quadrato, ossia 9. AB è pari a radice di 2 su 4 più X e quindi vado a scrivere radice di 2 su 4 più X per HB, ossia per X. In questa maniera ottengo un'equazione di secondo grado che risolta mi dà come soluzione X uguale a 2 radice di 2. Allora significa che HB misura 2 radice di 2 centimetri e AB è pari a 2 radice di 2, cioè HB più AH radice di 2 su 4 e quindi ottengo 9 radice di 2 fratto 4 centimetri. È dato il triangolo rettangolo ABC di ipotenusa B, il cui rapporto tra i cateti è 3 quarti e l'ipotenusa misura 25 mezzi A. Trova l'altezza del rettangolo di area 50 terzi a quadro inscritto nel triangolo con un lato sull'ipotenusa. Allora sappiamo che il rapporto tra i cateti di questo triangolo è pari a 3 quarti, ossia se indichiamo con X un cateto l'altro cateto sarà pari a 3 quarti X. Sappiamo inoltre che l'ipotenusa misura 25 mezzi A. Allora applicando il teorema di Pitagora possiamo andare a determinare le misure di AC e di BC e quindi posso andare a scrivere AC al quadrato, ossia 3 quarti X al quadrato più BC al quadrato X quadro uguale a B al quadrato, ossia 25 mezzi A tutto quanto al quadrato. Risolvendo questa equazione di secondo grado otteniamo che X è pari a 10A, ossia il cateto BC misura 10A ed il cateto AC che è i tre quarti di 10 misurerà 15 mezzi A. A questo punto conosciamo tutti i lati di questo triangolo. Ora fisso l'attenzione su questo rettangolo, so che l'area di questo rettangolo è pari a 50 terzi A. Indico con X questo lato e con Y quest'altro lato e quindi vado a scrivere questo X e questo Y e so che X per Y, cioè l'area di questo rettangolo, è pari a 50 terzi A quadro. Ora devo andare a determinare un'altra relazione che mi lega X con Y. Allora per fare questo devo fare una serie di passaggi. Allora la prima cosa che vado a fare è calcolare l'area di questo triangolo e quindi vado a fare cateto per cateto diviso 2 e quindi l'area mi esce 75 mezzi A quadro. Se adesso vado a fare due volte l'area diviso la base AB riesco a trovare l'altezza CH relativa alla base AB e quindi CH, che lo indico anche in figura, è pari a 2 volte l'area, cioè 2 per 75 mezzi A quadro, tutto questo diviso 25 mezzi A, cioè la base AB ed ottengo che CH è pari a 6A. A questo punto fisso l'attenzione su questo triangolo piccolo. Questo triangolo piccolo è simile al triangolo grande e quindi posso impostare un rapporto di similitudine e dire base piccola sta a base grande come altezza piccola sta ad altezza grande. Ora, l'altezza grande, cioè CH, so che è pari a 6A. L'altezza piccola, quindi indicando con H' questo punto, sarà pari a tutto, cioè CH, ossia 6A, meno questo pezzo che ho indicato con X e quindi posso andare a scrivere che CH' sarà pari a CH, ossia 6A, meno questo pezzettino che ho indicato con X, quindi meno X. Allora posso andare a impostare il rapporto di similitudine e dico quindi base piccola, quindi Y, sta a base grande, questa qui, ossia 25 mezzi A, come altezza piccola, quindi questo pezzettino, ossia 6A, sta ad altezza grande, cioè CH, ossia 6A. In questa maniera ottengo un'altra relazione che mi lega X con Y, quindi andando a fare i conti ed esplicitando il valore di Y, ottengo che Y è pari a 6A meno X per 25 mezzi A, tutto quanto diviso 6A, quindi per 1 su 6A. A questo punto, andando a sostituire questo valore qui in quest'altra relazione, cioè al posto di questa Y, vado a sostituire questa scrittura, ottengo un'equazione di secondo grado e quindi scrivo X per Y, cioè questa quantità, e quindi vado a scrivere 6A meno X per 25 mezzi A per 1 su 6A, deve essere uguale a 50 terzi a quadro. Risolvendo questa equazione di secondo grado, ottengo due soluzioni, X uguale a 2A ed X uguale a 4A. Osservo che queste due soluzioni sono tutte e due soluzioni accettabili, perché sono tutte e due positive, e comunque minori di CH, cioè minori di 6A. Devo fare questo controllo perché X, cioè questo pezzettino, è una parte dell'intera altezza CH. È dato il triangolo rettangolo ABC di area 96 cm2, i cui cateti AC e CB sono proporzionali ai numeri 3 e 4. Dal punto P preso sull'ipotenusa B traccia la perpendicolare all'ipotenusa stessa che incontra CB in K. Determina la posizione di P in modo che l'area del triangolo PKB sia 24 cm2. Per risolvere questo problema osservo che il triangolino che ottengo prendendo un punto P su AB e poi tracciandola perpendicolare ad AB è simile al triangolo grande. Infatti osserviamo gli angoli. Indico l'angolo in A con α e l'angolo in B con β. Allora ottengo un triangolo rettangolo che ha un angolo di 90 gradi, uno che si chiama α e l'altro che si chiama β. Se adesso fisso l'attenzione sul triangolo piccolo, osservo che un angolo è di 90 gradi, l'altro è β, allora di conseguenza questo angolo qui deve essere per forza α. Allora ho appena dimostrato che questi due triangoli sono effettivamente simili. Se i cateti del triangolo grande sono in rapporto come 3 sta 4, allora anche i cateti del triangolo piccolo dovranno essere in rapporto come 3 sta 4. Vuol dire che se un cateto lo chiamo x, allora l'altro cateto deve essere 3 quarti x. Sappiamo che devo determinare P in modo tale che l'area di questo triangolo deve essere pari a 24 cm quadri e allora vado a fare cateto per cateto diviso 2 deve essere pari a 24 e scrivo un mezzo per x per 3 quarti x uguale a 24. Risolvendo questa equazione di secondo grado ottengo che x è pari a 8 cm e quindi PB è pari a 8 cm. Se voglio determinare la misura di AP devo riapplicare di nuovo il rapporto di similitudine utilizzando questa volta quest'area, cioè indico un cateto con x, in questo caso BC con x e AC con 3 quarti x. E so che l'area del triangolo grande, quindi un mezzo per x per 3 quarti x deve essere pari a 96. In questa maniera riesco a determinare x che è pari a 16 cm dove questa volta con x ho indicato la misura del cateto grande, quindi so che questa lunghezza è pari a 16 cm e lo indico in figura e l'altro cateto AC è i 3 quarti di x, ossia 12 cm e lo indico in figura. Per determinare ora l'ipotenusa B basta fare 12 al quadrato più 16 al quadrato sotto radice ed otteniamo che AB è lunga 20 cm e quindi sappiamo che tutto quanto è lungo 20 cm, mentre PB l'abbiamo determinato prima che è 8 cm e quindi AP è pari a 20 meno 8, ossia AP è pari a 12 cm. Vediamo quest'ultimo problema. Un rettangolo è iscritto in una circonferenza di raggio R in modo che AB è uguale a 2BD. Determina le dimensioni del rettangolo. Allora, indichiamo con xBD e AB è pari a 2X. Sappiamo che questa circonferenza ha raggio R che indico in figura. Quindi sappiamo che AC è lungo R ma anche CD sarà lungo R. Di conseguenza CB sarà pari a tutto R meno X e quindi CB è pari ad R meno X. Adesso fisso l'attenzione su ACB, cioè su questo triangolo. Essendo un triangolo rettangolo vale il teorema di Pitagora e quindi posso andare a scrivere CB al quadrato, ossia R meno X al quadrato più AB al quadrato, cioè 2X al quadrato, deve essere uguale all'ipotenusa al quadrato, ossia R al quadrato. Risolvendo queste equazioni di secondo grado in X ottengo come soluzione ammissibile X uguale a due quinti R. Ora, lo scopo è andare a determinare le dimensioni del rettangolo. Sappiamo che un lato di questo rettangolo sarà pari a 4X, perché se AB vale 2X, tutto quanto sarà pari a 4X. Quindi un lato L1 sarà pari a 4 volte X, ossia 4 per due quinti R e quindi 8 quinti R. L'altro lato. Sappiamo che CB è pari a R meno X, quindi l'altro lato è 2 volte CB. Allora vado a calcolare prima CB. Quindi CB è pari a R meno X e quindi R meno due quinti R e quindi 3 quinti R. Allora il secondo lato, cioè questo, sarà pari al doppio di CB, ossia 3 quinti R per due e quindi 6 quinti R. E con questo esempio termino questo tutorial su problemi geometrici risolubili con le equazioni di secondo grado.